Ragazzi la Roma vince la Conference League, sicuramente a Roma si farà festa tutta la notte, non solo, perché comunque è una competizione europea, ma io non è che voglio sminuire per carità, ma è una competizione, cioè se la Juventus dovesse vincere la Conference League, si parlerebbe di stagione positiva o negativa. Quindi per me questa è una competizione che nasconde, secondo me, un anno di fallimento, perché tu per andare a giocare quella competizione vuol dire che in campionato devi fare schifo, giusto? Ripeto, una piazza come Roma, oggi è giusto che festeggiano, cioè non mi capite male, io non sto sminuendo la Coppa. Sto dicendo però che se la Juventus arrivi il quarto e entri in Champions, e si parla di stagione fallimentare, per andare a fare quella competizione là, che stagione sarebbe? Ma ditemi la vostra nei commenti, cioè ripeto, io capisco i tifosi della Roma, capisco la città di Roma, è giusto che festeggiano, ma mettiamoci nei panni di tifosi che si amano la Juventus, Ma io penso che su queste vincere quella competizione, è una competizione che si può parlare poi di stagione positiva o meno, ditemi la vostra nei commenti, un abbraccio, è sempre fino alla fine.